salve ragazzi e benvenuti alla terza puntata della nostra rubrica targata lbdv su le scommesse allora ragazzi per questa settimana faremo tre schedine consiglieremo tre schedine tre giocate la prima è una quota 3 simile all'uno aver preso nel nostro studio che uscirà tra poche ore l'unico per del benfica del real betis un quota altissima 1 a 1 e 97 è l'over a 2 25 più o meno quindi una quota attorno alle 350 360 in base al bookmaker lune over del celta vigo contro il grada il granada a 304 è la mia quota consigliata un po folle quota 3 singola proviamoci poi un sistemone con quota minimo 160 è quota massima che non sto qui a dirvi ragazzi lo scoprirete giocandola in questo sistemone abbiamo spaziato nei vari campionati europei partendo con l'uno del liverpool col newcastle quota bassa quindi direi di giocare uno primo tempo 1 e 45 quota l'uno del real madrid con levante l'uno del tottenham col crystal palace perché il tottenham difficilmente deluderà nonostante a molti giocatori che rientrano dalle nazionali infatti nell'altra schedina l'ho giocata over perché molto probabilmente sarà una partita aperta che però secondo me il tottenham vincerà gol gol brescia bologna attaccano bene entrambe molto bene quindi il gol da entrambe le parti è consigliato gol wolverhampton celsi due squadre di pari livello ora come ora il celsi non è ingranato ancora non è ancora in formissima ma il celsi a giocatori singoli più forti rispetto al governo che però in casa gioca molto bene anche fuori casa però una grande squadra gol over ma più sul gol difficilmente una partita che fino a 3 a 0 0 3 quindi l'over è più rivolto verso il 21 12 quindi dovrebbe uscire questa quota l'uno dell'inter in casa con l'udinese che quasi d'obbligo quasi uno e no gol ma mettiamo uno perché è un rischio comunque la difesa dell'inter e anche con godin potrebbe trovare qualche difficoltà anche se ne dubito ma l'uno è d'obbligo geno atalanta x e gol il primo la prima doppia sono due squadre che ora come ora se equivalgono perché il genoa ha iniziato il genoa ha iniziato benissimo questo campionato l'atalanta vabbè vuole riscattarsi dalla sconfitta col torino anche se un po' di pressione di pressione champions calciatori che sono tornati alle nazionali potrebbe non spuntarla quindi vista così sono due squadre che bene o male dovrebbero partire alla pari l'uno dello sheffield contro il southampton doppia col gol gol lo sheffield in casa gioca benissimo attacca bene nonostante i singoli non siano granché quindi consigliata da giocare over napoli samp partita aperta che sulla carta e uno che però potrebbe portare difficoltà e potrebbe essere da gol gol però una partita che se il napoli riesce a portare dalla sua subito può finire anche 3 a 0 ipoteticamente quindi potrebbe essere una partita aperta se il napoli subisce gol difficilmente una partita da under quindi dovrebbe essere sicuro gol gol 2 gol gol in germania che sono borussia dortmund e bayer leverkusen e union berlino werder brema i due gol più facili sulla carta però ovvio che scommettendo la difficoltà e difficoltà non c'è nulla mai nulla di facile e 1 e over paris saint germain strasburgo quota alta per essere il paris saint germain in casa che è una macchina da gol 1 e 5 1 e 60 quasi quota 1 e 60 la seconda giocata invece anzi terza ed ultima si tratta di 9 over 3 in premier 3 in bundes e 3 in serie a interudinese in serie a spal lazio e fiorentina juventus in premier abbiamo un grandissimo tottenham crystal palace che una partita a mio avviso aperta 2 a 1 tottenham letta 2 a 1 tottenham watford arsenal ovvero una partita anche da gol gollo nello studio vedrete tutti i pronostici tutte le 50 partite dei 5 top campionati europei pronosticate settimana scorsa superato il 60 per cento dei pronostici con quote alte nessuna sottorona e 30 andiamo avanti con manchester united leicester un altro over gli ultimi tre sono tutte e tre in germania e si tratta di padre boru schalke lipsia bayern monaco e borussia dortmund leverkusen ragazzi questo è una quota 80 quota 80 tutte over mi raccomando seguite i nostri consigli seguite il nostro canale alla prossima ragazzi ciao se volete ottenere 75 per cento di sconto per amazon prime netflix apple music spotify e tanto altro ed avere anche 2 euro e 50 regalo cliccate sul link di tutta del prazo in descrizione